Da un po' di giorni a questa parte, sfogliando alcuni quotidiani pugliesi e tarantini in modo particolare, ho scoperto e abbiamo scoperto una realtà, a mio avviso, agghiacciante. Vediamo delle belle grandi pagine, piene, complete, a tutto schermo, oserei dire con una terminologia televisiva, recanti la pubblicità per Arcelor Mittal. Infatti, come si vede dall'immagine, c'è scritto, fatti d'acciaio, Arcelor Mittal ovviamente, taranto, coil zincati per le filiere industriali italiane. Nello stabilimento di Taranto si producono i coil zincati, rotoli di acciaio particolarmente resistenti alla corrosione, con questi prodotti di qualità certificate ed elevati standard prestazionali, si alimentano numerose filiere dell'industria italiana, tra cui l'automobile, la carpenteria industriale e civile, la meccanica, l'edilizia, le infrastrutture e l'energia. Il sito di Taranto produce lamiere e coil laminati a caldo, zincati e decapati. Quindi, questa è appunto la scritta che si legge, l'inserzione pubblicitaria. È davvero qualcosa, ripeto, di agghiacciante. Perché? Perché a Taranto si muore di cancro? Perché Arcelor Mittal è una realtà industriale assassina? Mi assumo la responsabilità di tutto quello che dico. Assassina, perché uccide all'interno e all'esterno dello stabilimento. Visti i casi, visto che all'interno la struttura, lo stabilimento sta crollando a pezzi, ci sono stati incidenti, per fortuna alcuni non mortali, perché solo per grazia divina si è evitata la tragedia. E all'esterno i picchi e gli sforamenti ormai sono una realtà quotidiana. Voglio rivolgermi a queste testate giornalistiche, le ripeto, almeno quelle che ho visto, poi non so se ce ne sono altre anche online. Ma al momento ho monitorato la situazione di Buonasera Taranto, della Gazzetta del Mezzogiorno e del Quotidiano di Puglia. Mi rivolgo agli editori. È vero che l'editoria vive un momento difficile, particolare, ma signori cari, andarsi a prendere la pubblicità dagli assassini di Arcelor Mittal è davvero una vergogna. Una vergogna. Questo per come la vedo io. Mi metto nei panni dei giornalisti, dei colleghi giornalisti, molti dei quali godono della mia stima. Certamente sono persone apprezzabili, molti di essi hanno fatto battaglie dure contro la grande industria, contro l'ILVA. Però poi mi domando, cari colleghi, ora in che condizione vi troverete? Perché voi sarete condizionati. Sarà difficile per voi poter dire Arcelor Mittal continuo ad uccidere. Perché ovviamente poi l'editore vi chiamerà e dirà, caro mio, questa è la linea editoriale. Noi, io editore, ricevo fondi, ricevo soldi attraverso la pubblicità da Arcelor Mittal. E tu ti devi dare una calmata, devi ammorbidire i toni. Questo, cari colleghi, vi sentirete dire. E vi troverete in una situazione infernale. Posso parlare della mia esperienza diretta quando fui buttato fuori da Bluestar TV perché attaccavo l'ILVA. E purtroppo potrebbe accadere anche a voi. Vi capisco, però rendetevi conto che in queste realtà diventa difficile, difficilissimo, esprimere un giornalismo serio. Quasi impossibile. E vedere queste pagine, cari editori di Taranto Buonasera, di Buonasera Taranto, del Quotidiano, di Puglia, della Gazzetta del Mezzogiorno. Vedere queste pagine che inneggiano ad Arcelor Mittal, è una situazione che sconvolge. Ripeto l'aggettivo, agghiacciante. Pensate ai morti di cancro, pensate agli ammalati di cancro, pensate agli uomini che sono morti, che sono stati uccisi all'interno dello stabilimento siderurgico. Morti per incidenti. E qui cosa celebriamo? Arcelor Mittal? La peggiore gestione dell'ILVA. Peggiore pure rispetto ai crimini commessi dai vari Riva, Archina e quant'altro. Ma vi rendete conto? Oltretutto Arcelor Mittal non paga le ditte dell'appalto perché dice di non avere soldi. Però poi stranamente paga la pubblicità. Arcelor Mittal mette in cassa integrazione i dipendenti. Il nuovo piano industriale prevede 3.300 tagli. La sorte dei 1.800 lavoratori ex ILVA in AS è sconosciuta. Arcelor Mittal non ha soldi dunque, però stranamente investe in pubblicità. E vorrei sapere, anche magari dalle stesse testate, quanto hanno ricevuto. Ripeto, parliamo di una cosa lecita, per l'amor del cielo. Però, permettete, io voglio sapere quanto Arcelor Mittal ha dato a queste testate. Signori editori, lo ripeto, il profitto economico deve cedere il passo dinnanzi alla dignità. La dignità impone che non si può acquistare pubblicità da Arcelor Mittal. Io sono titolare di una impresa individuale di comunicazione, la Luigi Abate Production & Communication. Vado avanti con sforzi enormi per produrre i miei programmi, per produrre Polifemo, L'Occhio di Abate, per produrre Polifemo Eventi, per produrre Lo Sportello del Cittadino, per produrre senza bavaglio. E vi dico che è difficile fare la raccolta pubblicitaria. Ma credetemi, preferisco prendere qualche centinaio di euro da aziende, da realtà pulite, da realtà povere, da realtà piccole, ma non voglio assolutamente unire il mio nome a un nome criminale come Arcelor Mittal. La mia coscienza e la mia dignità mi impongono di rinunciare a certe situazioni. Per me sarebbe stato e sarebbe molto facile prendermi i soldi di Arcelor Mittal. Anzi, Arcelor Mittal mi userebbe come un pupazzo per rifarsi una verginità. Direbbe il giornalista anti-Ilva, quello che ha sfidato Riva, che ha sfidato Archinà, ci sta dando ragione. Sta mettendo sulle proprie pagine social, sui propri schermi televisivi, sta mettendo la nostra, il nostro logo, il nostro marchio Arcelor Mittal. Mai, mai e mai. Preferisco vivere di pane e cipolla, preferisco andare a raccattare la cento euro, ma mai, mai e dico mai, la pubblicità di Arcelor Mittal starà sui miei programmi televisivi e web. È bene chiarirlo. Che dire? È una scelta di coscienza, è una scelta di dignità, è una scelta di coerenza. Io, Luigi Abate, non piegherò mai la testa dinnanzi a chi uccide i tarantini. Senza Bavaglio, un programma di inchiesta e di denuncia a cura di Luigi Abate. In onda ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 15 su Telesud, canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.